Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare come vi avevo annunciato di tematiche sanitarie qui con me ho Silvia Romano che è Presidente dell'Associazione Medica Patavina è una cardiologa, buongiorno e benvenuta perché il 30 settembre è la giornata mondiale del cuore è la giornata in cui a Padova la vostra associazione propone degli screening a tutta la popolazione verrebbe da dire in un momento in cui fare prevenzione è un po' più difficile per questa famosa coperta corta Ai noi sì, però noi insistiamo perché riteniamo sia molto importante e dopo l'esperienza dello scorso anno che ci ha dato molta soddisfazione abbiamo deciso di continuare quest'anno con qualcosa sempre in più, perché no? E quindi ci troverete, per chi è interessato, sabato 30, dalle 9.30 fino alle 17.30 davanti a Palazzo Moroni sull'Iston, a Padova Saremo presenti con un camper per misurare la pressione, il colesterolo, il girovita e il rischio cardiovascolare di tutte le persone che saranno interessate a farselo valutare e quindi a dare di consigli di conseguenza e ricordo che purtroppo la patologia cardiovascolare è la prima causa di malattia, di morte da noi quindi fare prevenzione è molto importante, si può guarire insomma e poi oltre a noi che faremo questa attività come i medici dell'Associazione Medica Fatavina ci saranno altre associazioni, altre attività fatte con altre associazioni per l'appunto tramite il Comitato Mani Unite per Padova, abbiamo collaborato col Comune per il progetto Città Sane siamo molto contenti di aver dato il nostro contributo al progetto dell'OMS Che consiste in cosa questo progetto, lo vogliamo ricordare? L'OMS spinge affinché tutti i Paesi membri che lo desiderino lavorino a degli obiettivi L'obiettivo per la salute consiste nell'organizzare queste giornate di prevenzione quella per il cuore è all'interno di questo Padova fa parte delle 70 città, credo, che hanno aderito al progetto in Italia del progetto Città Sane ed è nel direttivo nazionale quindi ci teniamo a fare bella figura Insieme a noi ci saranno anche altre associazioni, gli amici del cuore il cuore aritmico onlus, gli anticoagulati, Padova fa battere il cuore che ci tengo a dirlo, loro mi stanno particolarmente cari perché spingono per la prevenzione della morte improvvisa dei giovani quei ragazzi che vediamo spesso sportivi morire improvvisamente o avere degli arresti cardiaci si può intervenire, è molto importante farlo Come si può intervenire? Perché spesso magari noi trattiamo anche di casi di cronaca che sono frequenti, però non riusciamo mai poi ad arrivare ad una spiegazione è la ricerca che per me, oppure voi siete arrivati a capire è un cortocircuito elettrico incomprensibile? Sì, è un'aritmia nella maggior parte dei casi, non sempre ma nella stragrande maggioranza dei casi è un'aritmia e a parte la prevenzione, la diagnosi prima che avvenga l'evento una cosa fondamentale è l'intervento rapido nel momento in cui c'è questa aritmia, c'è un arresto cardiaco il massaggio cardiaco e soprattutto la defibrillazione insomma il famoso intervento del defibrillatore è fondamentale perché può salvare la vita e Padova fa battere il cuore ci presenterà un progetto bellissimo che hanno messo in atto per donare dei defibrillatori a Padova molte città ce li hanno nei centri più importanti e Padova ancora non ce li aveva Quindi Padova non ha ancora dei... perché Venezia so che ha... Sì, Venezia ha fatto questo progetto tempo fa con il dottor Isica che è stato anche il mio primario Padova ne ha, ma non ha ancora una rete e loro hanno voluto, hanno raccolto dei fondi e vogliono donare al comune questi defibrillatori e ce ne parleranno in occasione di questa giornata perché uno dice, vabbè, può sembrare che la presenza di alcuni defibrillatori dislocati in negozi, ristoranti oppure anche nelle colonnine accessibili al pubblico sembra che non ci siano i vandali che le devastino quanto funziona per l'intervento nell'immediato? perché uno dice, sì, è d'accordo, però io non so usarlo invece no, perché è abbastanza semplice è molto semplice, infatti in piazza verrà spiegato per chi è interessato, insomma, come funziona il massaggio e come funziona il defibrillatore semiautomatico l'invito è ad essere presenti, a scoprirlo, a provarlo è molto semplice, chiunque può farlo anche perché è una cosa che interessa a tutti sì, sì, direi di sì nella maniera più assoluta le malattie cardiovascolari sono in aumento? sono in decremento? so che è sempre un po' limitante e generalizzante parlare di numeri perché dipende dall'età della popolazione ma volevo capire se la prevenzione certe campagne di comunicazione che mi vienerebbe da dire sembrano ormai quasi appannaggio esclusivo delle associazioni, quindi dei volontari però stanno dando i frutti e quanto il disagio economico che abbiamo vissuto negli ultimi anni allontana poi dalla prevenzione quasi per cause forzate purtroppo la patologia cardiovascolare è in aumento perché la popolazione ha sempre visto negli ultimi tempi un aumento dell'età media in realtà c'è stato un blocco in quest'ultimo periodo di questo aumento e c'è però un aumento della possibilità di cura quindi cosa succede? c'è sempre più persone malate però la malattia diventa cronica cioè viene curata si vive abbastanza bene comunque si sopravvive di più però è più gente che deve affrontare le cure periodicamente deve essere sotto controllo e c'è bisogno appunto di di seguire tutte queste persone questo perché si invecchia di più o anche lo stile di vita nonostante si predichi il movimento l'alimentazione che credo forse stiamo cercando di migliorare eccetera eccetera incidono i fattori ambientali poi quello che sotto noi chiamiamo sotto il termine stress che poi alla fine è vivere ad una velocità superiore a quella per cui siamo programmati poi alla fine quindi quanto questi fattori possono incidere quanto magari darci una calmata può contribuire perché poi se si rallenta noi possiamo fare moltissimo per ridurre il nostro rischio cardiovascolare modificando tutti questi fattori quindi se si dovesse scoprire l'occasione può essere questa col calcolo del rischio di entrare nella fascia di popolazione ad alto rischio noi possiamo consigliare in maniera soggettiva cosa fare per ridurre questo quindi per chi ha determinati fattori come fare per incidere specificatamente su quelli è molto importante farlo chi lo fa può vedere degli ottimi risultati sicuramente lei parlava di cronicizzazione di alcune patologie cronicizzazione vuol dire coesistere con la malattia curandola solo con i farmaci o anche ci sono degli interventi chirurgici penso agli stand e bypass a tutta una serie di protesi che in qualche modo aiutano il nostro cuore le procedure interventistiche in cardiologia e gli interventi chirurgici hanno visto un boom incredibile in questi ultimi anni e si è riusciti a fare cose che probabilmente una volta erano ritenute impensabili penso alla possibilità di operare il cuore battente in toracoscopia una volta bisognava aprire e fermare il cuore adesso per alcuni interventi si può fare con dei tubicini ed è qualcosa di incredibile oppure di inserire delle valvole nel cuore o dei pacemaker con dei tubicini che vanno dalle vene senza più fare nessun tipo di intervento ci sono delle procedure riducendo gli effetti collaterali i rischi e andando ad agire lì in sito in sito in modo da rendere anche più accessibile queste procedure a tutti perché un intervento a cuore aperto magari per persone defedate o comunque insomma anziane è proibitivo invece questi tipi di intervento rendono la cura accessibile a molte più persone e la farmacoterapia? anche questa ha visto insomma grandi avanzamenti e continuano a uscire terapie nuove grazie alle dite farmaceutiche che adesso vengono spesso demonizzate ma per fortuna che ci portano ancora degli avanzamenti delle cure nuove in questi ultimi anni ne sono usciti diversi questa efficacia si basa su che cosa? farmaci che sono sempre più mirati quali sono appunto i progetti? l'ultimo esempio in realtà è di qualche anno fa ma ha cambiato molto è che una volta per anticoagulare il sangue nei pazienti cardiopatici spesso è necessario dare una terapia anticoagulante veniva usato come unico farmaco efficace il comadino il comadino che è nato come un veleno per topi ricordiamocelo va dosato in maniera molto attenta a numerosi effetti collaterali infatti in quello bisogna fare gli esami ogni ogni torniamo su questo punto subito dopo la pubblicità perché effettivamente sono informazioni che sembrano scontate ma scontate non sono torniamo tra un paio di minuti grazie sicuro torniamo in studio parliamo della giornata mondiale del cuore sabato 30 settembre sul listone di Badova la possibilità dalle 9 del mattino fino alle 17.30 di sottoporsi ad uno screening per valutare il proprio rischio cardiovascolare grazie all'associazione medica Patavina e ad altre associazioni che saranno a servizio del cittadino proprio per fare questo tipo di valutazione quindi un'occasione da non perdere perché senza fare la fila senza liste d'attesa a titolo totalmente gratuito si può sapere qual è la propria situazione e poi magari avviare l'ipertensione piuttosto che delle aritmie avviarsi ad un percorso di cura una giornata particolarmente importante soprattutto in questi tempi che mi pare di capire il paziente per paura di spendere perché comunque i soldi sono meno vuoi perché le linee di prevenzione in qualche modo sono state riviste tende a non fare gli esami di routine invece questa può essere un'occasione per scoprire speriamo il meno possibile delle situazioni a rischio che possono essere sottoposte a terapia prima di andare in pubblicità parlavamo dell'evoluzione di alcuni farmaci e un farmaco anticoagulante che è sempre stata la panacea per molti anni oggi per fortuna sta andando in pensione perché è stato soppiantato da nuove anni si è affiancato più che soppiantato ancora c'è tempo però c'è un'alternativa che è molto valida che sono i cosiddetti anticoagulanti diretti che non hanno più quegli effetti collaterali quella necessità di essere dosati e modulati nel tempo perché c'erano mille interazioni con quello che veniva mangiato con i farmaci con qualsiasi cosa interagisce il Kumadi invece questi nuovi farmaci agiscono come gli altri cioè con una dose fissa un effetto fisso e questo è stato uno stravolgimento pensiamo a tutti quei poveri pazienti anziani che dovevano sottoporsi a prelievi periodici ogni settimana se non sbaglio per cui insomma è stato un grande cambiamento degli ultimi due anni per dire l'ultimo altre rivoluzioni che potranno essere in programma a cui sono lavorando sì sono più che altro quelle più che farmacologiche dicevamo procedurali soprattutto la cardiologia interventistica sta vedendo un boom e si mettono o si correggono dei vizi valvolari o si mettono delle valvole nuove attraverso una vena si mettono adesso anche i pacemaker che una volta necessitavano di un taglio e di un apparecchio sottopelle adesso si inseriscono addirittura dentro il cuore ci sono degli stravolgimenti in atto importanti quando si tratta di cure si tratta del cuore in questa visione di muscolo fondamentale per la nostra sopravvivenza sia magari è paura lei sottolineava l'avanzamento delle tecniche interventistiche e magari qualcuno opta per la farmacologia perché sembra meno invasiva però se ho capito bene questi interventi possono essere risolutivi senza più dover arrivare al farmaco e quindi annientando gli effetti collaterali che comunque una sostanza chimica magari alla lunga può determinare in alcuni casi si possono risolvere in alcuni casi migliorano le condizioni cliniche ma non si sostituiscono al farmaco ovviamente dipende dai casi nelle valvulopatie o in alcune in alcune patologie delle coronate delle arterie del cuore per esempio c'è indicazione a farli perché se no l'evoluzione della malattia può essere tanto sfavorevole in altri casi può essere un'indicazione semplicemente a migliorare la qualità di vita a seconda della situazione in atto io citerei anche a dire un'altra cosa che parleremo di un altro argomento importante in occasione della giornata del cuore oltre alla terapia dell'acuto che può essere l'intervento eccetera un aspetto importante è anche il post-acuto nel senso la riabilitazione e avremo questo dalle 5 e mezza fino alle 7 facciamo un incontro in sala Nassiria anche con i responsabili della riabilitazione cardiologica di Padova che ci parleranno della loro attività della medicina dello sport e anche del progetto delle palestre per la salute che è un bellissimo progetto secondo me perché succede che dopo che uno è uscito dall'ospedale fa il ciclo di riabilitazione può trovarsi sentirsi abbandonato una volta che questo ciclo è finito invece con questo progetto delle palestre per la salute vengono collegati esiste una rete di palestre che hanno aderito a questo progetto per cui si sono messe in collegamento col centro di abitativo ci sono dei esperti di scienze motorie che sono in grado di seguire in cronico chi ha avuto patologie cardiovascolari in questo caso e seguirli nel tempo lei ci sta delineando l'aspetto di quella famosa rete dopo la cuzie che dovrebbe essere l'elemento fondante di una nuova sanità non solo in Veneto di un nuovo approccio alla convalescenza se vogliamo lei ci parla di questa rete di palestre e come fare per identificarle perché sono purtroppo ancora iniziative un po' a spot che non sono così visibili però esistono e anche le nostre trasmissioni vogliono servire proprio a dare questa informazione quanto è importante magari anche dire ai telespettatori di rivolgersi alle associazioni perché sono magari in grado di dare delle informazioni più peculiari più specifiche ma per dire che esistono queste cose magari non ci sarà ovviamente la palestra sotto casa di tutti perché non è neanche giusto che sia così però organizzandosi uno può avviare un percorso riabilitativo che continui nel tempo all'ospedale Colle esiste il centro di riabilitazione cardiovascolare ci sarà appunto il dottor Ponchia che è responsabile che ce ne parlerà esiste questo appunto percorso in collaborazione con il dottor Molaso tutti i personaggi che verranno a parlarci di questo progetto e e poi ci sono anche il gruppo in particolare degli amici del cuore che è questa associazione che segue i pazienti che hanno avuto un evento cardiovascolare e li tiene legati per anche perché spesso ci si sente soli dopo una cosa del genere invece condividere con altri la stessa esperienza aiuta ad affrontarla meglio e loro aiutano proprio questo percorso vi invito a collegarvi con loro adesso so che tutte le volte che noi ci vediamo io approfitto della sua presenza per magari ripetere quello che è l'ovvio che però non è così ovvio perché anche quando si parla di cuore si pensa sempre che sia qualcosa che riguarda gli anziani ma in realtà credo che ci stiano verificando casi di ipertensione che poi hanno il primo campanello d'allarme per poi poter sviluppare delle patologie cardiovascolari anche ad età che non si immaginava che tipo di consigli darci quando è che dobbiamo preoccuparci e così dire andiamo a farci un controllo andiamo dal medico di base oppure ho questi parametri magari sabato vengo all'istone a fare una verifica il parametro della pressione è 140-90 quindi l'invito è a misurarla ogni tanto uno spesso pensa sto bene non ho nessun disturbo si dimentica di fare una semplice misurazione della pressione di fare gli esami non li fa per anni a volte per decenni invece farli non costa nulla una misurazione della pressione è veramente un qualcosa che è accessibile a tutti quindi l'invito è a farla una volta ogni tanto uno può sentirsi bene avere la pressione alta o avere la pressione bassa o forse la pressione bassa si sente di più la pressione spesso funziona così ci si abitua cioè se la pressione alta insorge lentamente progressivamente l'organismo si abitua a me a tutti noi cardiologi capita spesso di vedere pazienti che arrivano con valori pressori veramente alti ma che si sono instaurati da tempo in maniera progressiva e loro non se ne non se ne accorgono per cui se avviene una crisi di pressione alta a una persona che è abituata a certi valori pressori la avverte se invece c'è questo andamento lento e progressivo stanno benissimo non avvertono niente non hanno mai misurato la pressione e si trovano dopo anni con i danni di un'ipertensione arteriosa non controllata da diverso tempo ormai evoluti quali sono questi danni che la pressione alta da pressione alta che uno così almeno sapendo quali possono essere i danni ogni tanto va a misurarsi la pressione perché poi magari c'è anche questo elemento la pressione dove la misuriamo dal medico e ci si instaura l'ansia che i valori siano alti vado in farmacia magari non so la stessa farmacia e faccio entro in una dimensione di confidenza con chi me la misura e quindi perché c'è anche oppure me la misuro a casa quante volte me la devo misurare perché poi c'è anche il paradosso di chi se la misura in ogni momento magari dopo che ha fatto una corsa e trova dei valori che lo spaventano sì allora c'è il cosiddetta ipertensione da camice bianco cioè capita che misurarsi la pressione solo quando si è dal medico può indurre un momento di ansia insomma ansia da prestazione diciamo così invece se si riesce a misurare in condizioni di maggior tranquillità sarebbe meglio non so se la farmacia ha un ambiente più familiare oppure se si ha la possibilità di misurarlo a casa se si ha l'apparecchio sarebbe probabilmente preferibile però se si dovesse trovare una singola volta un valore fuori scala bisogna misurarlo più volte bisogna fare una media perché magari quella volta si era un po' agitati si era in ansia eccetera se invece è costantemente un riscontro costante questi valori elevati allora bisogna pensare di dover fare qualcosa i danni della pressione alta per tanto tempo possono essere importanti sia a livello del cuore si instaura la cosiddetta ipertrofia cioè il cuore essendo un muscolo come tutti i muscoli quando sono costretti a fare tanto esercizio si ingrossa pensiamo ai culturisti che hanno il muscolo ingrossato solo che se si ingrossa il muscolo cardiaco non è un bene non è bello non è bello usiamo questo termine non è un muscolo no e fa male perché alla lunga si irrigidisce non pompa più bene può sfiancarsi e si può avere lo scompenso cardiaco si possono avere dei danni che poi diventano irreversibili a livello del cuore a livello delle arterie può provocare la facilitare la formazione di placche aterosclerotiche quindi l'infarto l'ictus eccetera si può avere proprio anche un ictus da crisi ipertensiva emorragia insomma può dare tanti problemi a livello del rene può dare insufficienza renale una nefropatia insomma i danni possono essere significativi e se presi in tempo reversibili a volte se presi troppo tardi anche irreversibili quindi la prevenzione è fondamentale un'altra cosa sempre relativa alla prevenzione lei ci ha parlato di parametri 140-90 anche se magari delle nuove linee parlano di parametri più bassi 120-80 a seconda della patologia poi nel senso 140-90 è il parametro per dire che uno è iperteso poi c'è l'ipertensione borderline poi c'è il valore i pressori normali cioè per essere normale bisogna essere 120-80 e anche la proporzione con i battiti perché magari c'è chi ha i valori bassi poi c'è i battiti A i battiti quanto dovrebbero essere? i battiti dovrebbero essere tra i 60 e i 70 fino ai 50 è una bradicardia insomma fisiologica a volte c'è lo sportivo molto allenato che può avere anche una bradicardia eccetera però insomma 20 battiti Coppi pare ne avesse 30 per dire vabbè però al di fuori di questi casi se si riscontra in chi ha sempre avuto valori di battito normali attorno a 60 e 70 senza un motivo si va a trovare un battito sui 30 o i 40 ripetutamente si sente girare la testa si sente fiacco bisogna approfondire se uno c'è la 90 in uno stato di tranquillità ovviamente se invece c'è al contrario una tendenza all'attacchi cardia 90-100 eccetera e bisogna anche verificare che ci sia un battito ritmico o aritmico questo è fondamentale perché spesso la tachicardia soprattutto nell'anziano si associa all'aritmia ecco come ci fa specifica cioè il battito ritmico ovviamente è un battito regolare ogni battito è scadenzato da un intervallo costante quando si ha per intendersi la fibrillazione atriale piuttosto che altre forme di aritmia e le extrasistoli invece di avere un battito regolare abbiamo intervalli estremamente variabili più accelerati più lenti non c'è una costanza e questo non va bene insomma bisogna approfondire bisogna fare un elettrocardiogramma per verificare la causa del battito aritmico altre informazioni che ci può dare che possono aiutare il nostro cuore lei parlava prima di riabilitazione perché è vero che il muscolo cardiaco se è trattato male si può ipertrofizzare però è vero anche che se c'è un infarto può recuperare cioè non bisogna avere paura perché dopo un infarto hai solo il 30% della capacità però nel tempo piano piano questo muscolo misterioso in qualche modo si rimette in moto si allora la zona infartuata se è stata sostituita dalla cicatrice purtroppo quella è persa però il resto del muscolo sano può intervenire ci può essere un rimodellamento si chiama comunque può ricariare più o meno la zona infartuata e quindi favorire una condizione generale di benessere può evolvere negativamente la riabilitazione è importante perché oltre all'azione che può avere sul cuore in diretto ha un'azione fondamentale sulla persona perché spesso l'infarto atto come abbiamo detto per paura si ferma e invece l'attività fisica spesso la può fare deve solo modurarla in base alle sue possibilità e è bellissimo vedere chi magari per tanto tempo ha avuto paura di non farcela che è inserito nel gruppo giusto insomma riabilitativo eccetera vanno a fare giri in montagna riescono a fare sport possono fare spesso molto più di quanto loro stessi avevano paura di fare e sempre nel ciclo della presa in carico poi è questo l'elemento fondamentale anche di prevenzione dopo l'episodio la riabilitazione e comunque l'allenamento nel palestre idonee e quindi sapere anche che tipo di attività fare perché molto spesso e qui magari mi rivolgo alle persone giovani che verificano di avere delle problematiche omettono e fanno non riconoscono la patologia ed eccedono quasi per allontanare per demonizzare la patologia e quindi questo però è terrificante quindi c'è ancora uno stigma anche se insomma l'ipertensione piuttosto che la malattia cardiovascolare credo che siano state sdoganate ma c'è una forma di stigma del sentirsi un po' questo parola cardiopatico che fa ancora ancora paura e magari blocca soprattutto quelle persone più giovani o quelle che erano abituate a un'ampia autonomia non so immagino il classico uomo quarantenne che si sentiva padrone del mondo a cui viene purtroppo un infarto ha spesso una difficoltà enorme ad accettare questa cosa per cui succede a volte che voglia negare di avere il problema e fa cose che non farebbe bene fare quindi convincerlo che da un lato deve essere cioè deve modulare deve ridurre certe attività ma dall'altro non deve spaventarsi perché seguito nel modo giusto il problema si può affrontare bene non è facile bisogna anche essere un po' psicologi in questo caso c'è paura che si possa riproporre oppure quando c'è un caso individuato in qualche modo si riesce a tenere la situazione sotto controllo o c'è una ricidiva magari una predisposizione nel momento in cui si scopre che esiste poi ci sono varie malattie cardiache ovviamente quella più comune di cui parliamo è quella coronarica l'infarto eccetera allora la patologia coronarica è una malattia che nel momento in cui si scopre di averla ce l'hai la puoi tenere sotto controllo evitare più possibile o ridurre più possibile la possibilità che evolva con le terapie la riabitazione e tutto quanto però una volta che ce l'hai non si può dire che sei guarito mai devi sempre tenerla sotto controllo però puoi tenerla sotto controllo evitare l'episodio infartuale però la certezza che questo non accada mai più in chi ha una malattia di base di questo tipo nessuno glielo può dire sarebbe scorretto perché c'è questa predisposizione un'altra cosa lei prima citava il quarantenne con l'infarto perché se si ha un episodio di questo genere in età relativamente giovane i rischi sono più alti perché quando lei ha detto un quarantenne deve mettersi nell'ottica di avere questa patologia a me verrebbe da dire ringrazio che ha superato perché spesso e volentieri gli anziani risolvono in mani cioè è meno è meno traumatico se si può usare questo termine è quasi più letale nei giovani spesso si vede questo fenomeno nel senso che le persone anziane sono più abituate a vivere con poco diciamo nel senso che se il cuore pompa poco se il metabolismo aumenta cioè una serie di cose riescono comunque a tirare avanti e invece l'infarto nel giovane può a volte essere più devastante e lo vediamo questo fenomeno anche perché poi ci sono una serie di correlazioni perché nel quarantena è spesso essere colpita l'arteria principale del cuore che quindi è quella che dà il danno peggiore insomma ci sono una serie di fenomeni oppure nell'anziano il processo si è verificato col tempo quindi c'è stata la possibilità di creare dei percorsi di aggiustamento in testo ma ci sono delle motivazioni anche però a volte sì purtroppo quanto e con questo concludo l'abuso di alcune sostanze incide nella vita di persone giovani quanto determina questi fatti di questo effettivamente non si parla si parla del fumo si parla del coraggio di tutti questi aspetti però alcune droghe in particolare la cocaina sono associate a favoriscono l'insorgenza di infarti per diversi fenomeni in particolare il vasospasmo eccetera comunque è dimostrato che l'abuso di sostanze stupefacenti di quelle pesanti insomma correla con l'aumento di infarti io ringrazio Silvia Romano Presidente dell'Associazione Medica Patavina vi ricordo l'appuntamento il 30 settembre all'Iston di Padova proprio per uno screening che effettivamente poi vi dà la dimensione del vostro stato di salute perché intervenendo in tempo ci si può salvare la vita e non è uno slogan ringrazio Silvia Romano ringrazio voi per essere rimasti con noi anche questa mattina torniamo ad ogni mattina con 7.0 arrivederci ringrazio Silvia Romano